Caterina Chinnici come Pirro celebra una vittoria schiacciante nelle primarie che probabilmente segnerà la fine definitiva dell'alleanza del campo progressista soffocata in culla dalle direttive di partito che arrivano da Roma. Eppure qui in Sicilia sia il PD che il Movimento 5 Stelle nel campo largo ci hanno creduto fino all'ultimo, ma Novelli, Romeo e Giulietta hanno dovuto fare i conti con la faida romana tra Montechi Dem e Capoleti Contiani. Un amore impossibile tra due forze che non possono più stare insieme con sullo sfondo una candidata presidente Caterina Chinnici che sembrerebbe aver già voltato lo sguardo verso altri lidi da Lombardo a Renziani passando per Calenda. Nel pomeriggio di oggi i Dem locali con in testa il candidato Peppe Di Cristina spiegheranno in conferenza stampa quale sarà il percorso all'indomani della vittoria alle primarie. Sull'altro fronte intanto il coordinatore regionale grillino Nuccio Di Paola fa il bilancio di questo amore divenuto ormai impossibile. Il Movimento 5 Stelle è e sarà coerente, noi abbiamo da sempre, da mesi, già da qualche anno parlato di fronte progressista, noi vogliamo costruire, stiamo costruendo il fronte progressista in Sicilia e a livello nazionale. Se il PD oggi sta decidendo di seguire un'altra strada che è quella dell'agenda Draghi, perché sembrerebbe che a livello nazionale il PD voglia riproporre l'agenda Draghi, e allora non è il Movimento 5 Stelle che sta cambiando idea o sta proponendo qualcosa di diverso, ma è il PD che si sta sfilando da un'alleanza che doveva pensare ai bisogni dei cittadini. E oggi ci sono tantissimi siciliani e tantissimi italiani che sono in enorme difficoltà economica e sociale, è a loro che dobbiamo pensare. Ad oggi il Movimento 5 Stelle non lo dice ufficialmente, ma sembra chiaro che non sarebbe disposto a sostenere la Chinnici qualora il campo si allargasse al centro. Io ho fatto i complimenti ieri mattina a Caterina Chinnici, ci siamo sentiti a telefono. Le ho ricordato che non ha la tessera del PD, però non è solo Caterina Chinnici che deciderà assieme alla coalizione, assieme al Movimento 5 Stelle, quale è il percorso da fare. Ma è il PD. Il PD oggi deve decidere se vuole andare avanti con quei programmi, quella visione di Sicilia e d'Italia che abbiamo pensato in questi mesi.